Ciao Danilo, bentornato! Come è andato il tuo passato weekend tra i mostri marini? È andato molto bene, ne ho sognato anche qualcuno, ma forse avevo mangiato un po' pesante, però so che tu hai avuto una bella vacanzina, ma ne parleremo dopo, non voglio già anticipare, il pubblico dirà che ce frega, no? Invece ve frega della vacanzina di Flavio! Sì, 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 perché è stato un piccolo viaggio a tema piratesco, anche se con qualche delusione, ma vabbè, di che parliamo oggi? Eh, oggi dobbiamo tornare a parlare un po' di qualche biografia, perché abbiamo affrontato il folklore, il mito, eccetera, però torniamo a parlare di qualche pirata che ha vissuto la Golden Age caraibica, chi ci proponi oggi? Oggi, guarda, visto che è l'ultima volta che l'abbiamo fatto, abbiamo parlato di Calico Jack e nessuno mi ha sparato, oggi vi parliamo, parliamo, oggi parliamo di un altro bel pirata, che si chiama Edward England, Edward England, famoso per essere il pirata misericordioso, misericordioso perché aveva questa abitudine stravagante di liberare sempre i suoi prigionieri e metterli in condizione di tornarsene a casa sulle proprie gambe, cosa che non era così scontata con i pirati. Questo strano vizio di non uccidere, che fra i pirati era un po' bizzarro, diciamo. Sì, sì, questo strano vizio. Insomma, un pirata molto idealista, un pirata che ci ricorda da vicino qualcuno che non citiamo mai. Chi, chi, chi? Bella. Ah, ecco. Sì, sì, sì. E a questo punto direi di iniziare a raccontare di lui, comunque dopo la sigla. Sigla! Però prima, prima, prima di partire nel vivo, noi dobbiamo prenderci questa parentesi che non è un uso privato del podcast, perché, ripeto, parlando delle vacanze di Flavio, sembra tipo i temi quando tornavi dall'elementare e tornavi dalla vacanza. Tema, le vacanze di Flavio. Sono state piratesche. E io dico, ma se me lo dicevi, no, non ci si può spostare con i voli internazionali, sennò venivo anch'io. Perché dove sei stato, Flavio? Raccontaci un po'. Sono stato in Cornovaglia, in Devon, in Padre dei Pirati, praticamente, cosa di cui si fanno anche un certo vanto, devo dire, visto che l'iconografia piratesca è praticamente ovunque, specialmente in Cornovaglia. Nessuno mi ha detto AR con mia grande delusione, però ho trovato vari riferimenti pirateschi in giro, tra cui una radio. E tu mi dirai... Ah, come? Ah, dei fratelli di radio piratesche che... Esatto, infatti io ho visto questa Pirate FM mentre girovagavo con le radio in macchina. E in questa radio io mi aspettavo, ah, adesso ci saranno dei ribelli che parleranno di cose controverse, e metteranno musica strana. Fatevi trovare alle nove che salpiamo, c'è una nave che... Beh, fantastico. Eh, sì, magari metteranno della musica strana, tipo, non so, il Pirate Metal, no? Oppure dei Sea Shanties, in cui tutti possiamo sentirci un po' dei marinai mentre viaggiamo in macchina. Invece no, trasmettevano pop dei primi anni 2000 e Jennifer Lopez. Ma come? È stata la più grande delusione di questo viaggio. e quindi io direi di saltare questo angolo delle mie vacanze. Però c'era la taverna a tema che tu hai detto, guarda, mi hai detto mille volte, Danilo, guarda, era una cosa per bambini, ma io esaltatissimo ci voglio andare lo stesso. La taverna dove hanno ricreato un bar piratesco. Tu vai lì e c'è... Sì, sì, con degli attori vestiti da pirati che interpretano dei personaggi storici, di cui tra l'altro abbiamo parlato, tipo Calico Jack, tipo Charles Vane, Timo Bartolomeo Roberts. Quindi sì, sì, se vuoi ti ci porto, però ti avverto, è un'attrazione per bambini. Non puoi spaccare una bottiglia in testa a uno stuntman e fare una rissa, no? È per bambini. È per bambini. Ribadiamo. Però facciamo una live dell'ing. Come hai convinto la tua dolce metà a fare una vacanza che tu sapevi era solo volta a trovare cose piratesche, in realtà l'hai spacciata per una vacanza al mare. Sì, sì, sì. No, al mare no in Inghilterra, poi a ottobre. Però la Cornovaglia è in realtà un posto molto bello, quindi è stato facile convincerla, ma inviterei chiunque a possibilità di farsi un viaggetto nel sud dell'Inghilterra, di visitare il Devon e soprattutto la Cornovaglia, è veramente un bel posto. Tra l'altro sfizierebbe il tuo animo da giallista perché le atmosfere sono molto allagate a Cristi e i posti sono molto interessanti. Beh, direi che una persona che non ha visto le taverne finte per bambini, ma quelle vere della Golden Age della pirateria, è proprio il nostro Edward England, un uomo che lo possiamo collocare perché ogni tanto diamo anche dei riferimenti, perché presentiamo molti personaggi, è coevo di barba nera. Diciamo tutti questi personaggi che stiamo presentando sono bene o male coevi, tranne alcuni come Everi, che precedono un po' poi l'arrivo delle generazioni degli anni Ottanta dei pirateri, come Barba Nera, England, England non era degli anni Ottanta, era del 78, però comunque tutti questi personaggi generalmente sono coevi e England ha avuto il merito di incontrare tanti personaggi storicamente esistiti, ma anche un importantissimo personaggio di finzione nella versione letteraria di England, ma non vi anticipo troppo. Sì, come hai detto tu, giustamente England era un coevo di tantissimi personaggi di cui abbiamo parlato e praticamente l'ha incontrata di tutti, pensa che lui ha iniziato la carriera come corsaro durante la guerra di successione spagnola come Barba Nera per intenderci, e poi fu catturato e reso pirata da un capitano che si chiamava Christopher Winter, che era un pirata un po' di secondo piano, ma che comunque operava un po' intorno a New Providence e tutto quel tipo di gente lì. Quindi England, che in realtà si chiamava Seager, prende appunto il cognome di England per non farsi riconoscere, visto che iniziava una carriera criminale, e si unisce alla ciurma di Henry Jennings e poi a quella di Charles Vane, quando Jennings si mette a fare il governatore appunto di Nassau. Che succede? Che nella ciurma di Vane lui diventa il quartier mastro, praticamente prima di Calico Jack, e quindi molto probabile che fossero compagni di sbronze oltre che di razzie. Quando Vane scappa da Nassau, come abbiamo detto nell'episodio dedicato a lui, inizia la sua schermaglia a distanza con Woods Rogers, Edward England decide di prendersi una nave, mettersi in proprio e andarsene dai Caraibi verso le coste dell'Africa, visto che ai Caraibi appunto la situazione non era al massimo per i pirati, visto che Woods Rogers faceva quello che faceva. Quindi allestisce questa nave, che tra l'altro chiama Fancy, in onore della nave di Henry Avery. Questo ci fa capire che anche lui fosse un po' un fanboy di Avery. Come tutti questi pirati. Quindi un pirata molto idealista, insomma, non certo un pirata che lo faceva solo per amor di Bottino. Questo ci dà anche un'idea un po' del suo carattere, perché essendo un idealista era un personaggio molto più vicino appunto a un Bellamy, come abbiamo accennato, che non magari a un Roberts. Quindi decide quindi di andarsene verso le coste dell'Africa e mettersi a razziare un po' quelle colonie che erano generalmente delle compagnie schiaviste inglesi o portoghesi, mentre incrociava tanti altri personaggi noti, di cui parleremo dopo una tua interruzione. Notare come Flavio sta mettendo sotto tutte le citazioni, fa finta di niente e intanto ci ha buttato un Bellamy, un Avery, sta mettendo tutti i nostri tormentoni e noi sapete che dobbiamo sempre pagare questo, non direi pegno, anzi è un onore nominare questi pirati. Chi manca da citare? Chi manca da citare? Manca Maynard. Mentre ho citato Barba Nera prima potevo buttarci anche un Maynard. Ma caro Flavio... È più bello farlo estemporaneo, non c'entra niente se abbiamo due pazzi. Ormai sì. Fra tutti questi, però almeno non passiamo, Jennifer Lopez. No, che poi non lo so, magari a loro sarebbe piaciuta Jennifer Lopez. Vai a capire i pirati. Esatto, ma chi siamo noi per dire? Anzi, Oops, I did it again, mentre cadeva l'ennesima nave nei flutti. Però Edward England, tu mi hai nominato molti pirati storici che ha conosciuto, ma in realtà ha conosciuto anche un personaggio di finzione, o meglio, non è che lo ha conosciuto lui, ma l'alter ego letterario di England ha conosciuto niente un po' di meno che Long John Silver. Perché infatti noi vediamo che viene England nominato nell'Isola del Tesoro. Effettivamente l'Isola del Tesoro, lo sappiamo, cita assieme ai personaggi inventati dallo stesso Stevenson, anche pirati veri, e li mette anche in gioco, come è accaduto con Israel Hands. England in particolar modo viene citato per essere il possessore originario del pappagallo, che poi verrà rinominato Flint, e che poi è il pappagallo che Silver ha sempre con sé quello che dice pezzi da otto, pezzi da otto, eccetera. E il nostro caro Larsson... No, com'è che dice? Scusa poi di bene. Pezzi da otto, volevo evitare, ero tentato, ma ho detto non posso fare la voce del pappagallo, perché dopo i tuoi intermezzi storici arrivo io con le mie cazzo. Però England viene poi citato anche da Larsson, che come sappiamo è l'autore di un romanzo prequel dell'Isola del Tesoro, che espande l'universo creato da Stevenson e racconta un po' dalla viva voce di Silver cosa è accaduto a Silver per farlo diventare l'uomo che poi conosciamo nell'Isola del Tesoro. E ti dico solo, poi andremo nei dettagli via via appunto quando inizieremo a intrecciare la realtà biografica tua a questa fonte letteraria, ti dico che Silver sarà quartiermastro di Edward England, quindi lavorerà proprio a stretto contatto con England nel romanzo, ma soprattutto ci sarà un rapporto fra tre figure, fra tre personaggi all'interno di questo romanzo, un rapporto molto significativo per la formazione di Silver stesso, perché Silver interagisce con England, che ha una sua personalità, e con Devil che ha un'altra sua personalità. Poi vedrete come si intrecciano questi personaggi, ma per ora non anticipo nient'altro. Interessante perché poi adesso ne parliamo, nella realtà storica effettivamente c'era un personaggio che si avvicina molto a Silver. Comunque avevamo lasciato il nostro England sulle coste dell'Africa a fare il pirata, insomma razzia, rabbia, chi sta meglio di lui. Infatti stava benissimo, se non fosse che i suoi uomini non è che sopportavano tanto bene il fatto che lui fosse così misericordioso, insomma. Si era scelto una ciuma un po' troppo sanguigna per la sua indole, probabilmente. Ricorda un po' Bonnet, ti ricordi quando lo mettevano sempre in minoranza e quindi alla fine lui era un capitano, però insomma non troppo. England invece era sicuramente più rispettato dai suoi rispetto a Bonnet, però sì, non è che sopportavano tanto questa sua indole pacifica e misericordiosa. Tanto è vero che quando potevano facevano quello che preferivano fare i pirati, quindi uccidere, torturare, eccetera. Questo accade quando catturano un grosso carico sulla nave Cadogan, che era capitanata da un certo Skinner, che mi ricorda sempre il preside dei Simpsons, invece no. Tra l'altro fece una finaccia perché gli uomini di England catturarono questo Skinner e alcuni di loro, fortuna o sfortuna, volle che fossero ex marinai di questo Skinner e che lo odiavano già a morte. Quindi prima che England potesse intervenire iniziarono a torturarlo prendendolo a bottigliare, un po' come volevi fare tu nelle taverne. Fino a che il primo ufficiale della Cadogan, mosso a compassione, sparò al proprio capitano per interrompere la tortura, insomma. E questo primo ufficiale era Howell Davis, che tu ti ricorderai nell'episodio su Bartolomeo Roberts. Difatti questo Howell Davis disse che non sarebbe mai e poi mai diventato un pirata. Si rifiutò di sottoscrivere il codice di bordo quando gli uomini di England provarono a reclutarlo a forza e disse che era meglio morire piuttosto che diventare un pirata. Poi England ci fece una chiacchierata e Davis divenne un pirata. Non solo divenne un pirata ma divenne quello che poi fu il mentore di Bartolomeo Roberts, insomma. Quindi divenne anche un pirata piuttosto interessante per le nostre storie. Comunque tornando a England, con Davis al fianco continuò a girare, ad assaltare vascelli, a convertire gente alla pirateria, tipo Robert Lane, Richard Sample, insomma vari pirati che trovarono in England un mentore. A un certo punto lui incontra un altro pirata piuttosto celebre all'epoca in quelle zone, che era John Taylor, che ha un nome un po' da rock star. Sì, è vero, infatti dicevo. Questo Taylor si unisce a England e formano un piccolo consorzio piratesco. Questo Taylor in particolare aveva lavorato in precedenza con Olivier Lavassier, che salviava anche lui da quelle parti, l'Abuse, il famoso pirata del tesoro che ti piace tanto. Esatto, qui abbiamo dedicato un video della nostra prima rassegna. Sì, 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 sì. E su cui dovremmo fare una puntata, comunque. Eh sì, eh sì. E che succede? Che England e Taylor iniziano ad andare insieme, ma non andare troppo d'accordo, visto che Taylor, a differenza di England, aveva un temperamento un po' fumantino, insomma, era piuttosto violento, aggressivo, almeno questo è quello che ci dicono le storie. Tant'è vero che generalmente l'equipaggio di England preferiva Taylor che non il proprio capitano, insomma. Anche qui ricorda un po' quel rapporto Bonnet-Barbanera, forse. Però, andando avanti, in questo periodo, England, da pirata gentiluomo, incontra anche l'amore perché... Vabbè, è fantastico. Sì, perché fa una razzia in una piccola città costiera e tra i prigionieri c'è una donna di nome Amy Brounso, credo che si pronuncie così, di cui England si innamora, ricambiato, perché comunque England è un gentiluomo, no? Eh eh eh. E con cui ha anche un figlio. Solo che a un certo punto England e Taylor decidono di muoversi verso l'oceano indiano, patria di più ricchi bottini rispetto alle coste dell'Africa e quindi decide di lasciare Amy e il loro figlio appena nato su una delle coste del Sudafrica e di partire quindi per nuove avventure insieme al suo amico, tra virgolette, Taylor. Dicendo vado a comprare il tabacco da masticare e torno e invece non l'hanno più. E invece non l'hanno più visto. Tra l'altro c'era una cosa curiosa che sembra che la famiglia England abbia questa tradizione che ogni primo genito deve chiamarsi John. E sembra che questa cosa sia stata iniziata da Edward England stesso, che diede il nome John a suo figlio e disse a questa Amy, da ora in poi tutti i nostri discendenti si chiameranno John. E sembra che questa tradizione vada avanti ancora oggi. Quindi John England, se ci ascolti, facciamo un'intervista. Facciamo un'intervista. Lui dirà, sto aspettando che il bisnonno torna. No, ma non torna, fidati che non torna più. Mi sa che no. Però è interessante come via via che noi andiamo a analizzare varie biografie e troviamo veramente una coincidenza di situazioni che si verificano quasi sempre tutte nello stesso modo a dimostrazione che si può veramente fare quasi una tesi su questa Golden Age della pirateria riscontrandone degli stilemi, delle caratteristiche fondamentali che hanno attraversato questa epoca. Una di queste è il fatto che molti corsari poi diventavano pirati. Cioè, nel senso, era quasi una degenerazione obbligata. Non è avvenuto così per tutti. Non è avvenuto così per molti, ad esempio, corsari che servivano la corona inglese, la regina Elisabetta, eccetera. Però sembra quasi che il passaggio da, lo faccio per motivi bellici, per motivi politici, per depredare le navi nemiche dello Stato che mi ha dato questa concessione e poi diventare invece, lo faccio punto, lo faccio per arricchirmi, sembrava quasi un passaggio obbligato. L'altra cosa in cui si trova un'aderenza fra molti personaggi è che, come abbiamo detto, per essere pirati non serviva a corrispondere all'archetipo che poi è quello che ci è stato trasmesso del capitano che quasi con la sua ciurma ne faceva quel che voleva come pezzi di carne, eccetera. Perché abbiamo visto uomini che sono riusciti a conquistare la via del mare tramite l'astuzia. Abbiamo visto, appunto, un calico Jack. Abbiamo visto un Edward England che invece si distingue per la sua magnanimità e nella stessa epoca un barba nera che voleva apparire come il diavolo sulla terra. Quindi è la dimostrazione, via via, che vediamo queste biografie che pirata non era una persona che puoi inserire in una categorizzazione ma era un modo di saper sopravvivere con tutte le arti che riuscivi a tirare fuori. C'era chi giocava ad astuzia, chi giocava con la violenza, la brutalità, chi era più magnanimo, chi non aveva mai preso la via del mare ha detto divento capitano come abbiamo visto con Bonnet. E quindi veramente una umanità eterogenea quella della pirateria. Mi erano venuti questi due spunti e anche a me ogni tanto vengono spunti interessanti. No, no, come? Ogni tanto. Fa far modesto. Povero Danilo. No, tra l'altro la cosa che hai detto del fatto che molti pirati erano corsari che poi hanno un po' degenerato. In realtà questa Golden Age, che poi dei Golden Age della pirateria ce ne sono state più o meno tre, quella di cui abbiamo parlato finora è quella dei pirati inglesi sostanzialmente. Ovviamente dovremmo prima o poi parlare anche del periodo precedente di Tortuga e dei Bucanieri. Sì, però ecco, una cosa che caratterizza proprio questi pirati di cui parliamo spesso è il fatto che prima facessero i corsari. Ecco, abbiamo England, abbiamo Barba Nera, abbiamo altri, questi sono due celebri esponenti. Tra l'altro entrambi reduci di quella guerra di successione spagnola che ha questo nome che è un po' sembra quasi una marachella interna a Casade. Invece no, esatto. Invece è stata praticamente una guerra mondiale. Sì, sì, sì. È stata una guerra violentissima, lunghissima, che coinvolgeva praticamente tutte le potenze dell'epoca e che le coinvolgeva sia in Europa sia in America. Quindi è stata una guerra veramente enorme. e gli inglesi ebbero l'idea e la necessità di distribuire lettere di corsa praticamente a chiunque e quindi diventare un corsaro era una cosa molto comune per un marinaio che voleva fare un po' più di soldi rispetto ai pochissimi che guadagnavano a un marinaio. Quindi ci fu un exploit di corsari che, finita la guerra, si ritrovarono senza lavoro e che l'unico mestiere che avevano era quello di rapinare le altre navi. Quindi una volta ritirata la lettera di corsa, che fanno? Alzano il Jolly Roger e iniziano a continuare a fare il mestiere che già facevano prima solo senza un padrone sostanzialmente. Quando abbiamo parlato di Bonnet abbiamo visto che lui alla fine tentò di fare il corsaro anche se poi non gli ando bene, però non penso che molti di questi pirati se avessero avuto l'opportunità avrebbero continuato a fare i corsari tranquillamente. Ah ok, tu dici se fossero continuate le condizioni per servire sotto un regno e attaccare solo dei... Certo se fai il pirata hai un ventaglio più ampio di navi che puoi attaccare effettivamente. Sì ma sei anche più ricercato, se comunque... Non in senso buono, come ricercato questo... No, sei proprio ricercato. Sei proprio ricercato, letteralmente. Perché comunque nel momento in cui tu hai uno stato, una corona che ti protegge hai già una varietà di porti sicuri maggiore insomma. Però è anche vero che non tutti i pirati, come hai giustamente detto, erano uguali. Quindi quelli che puntavano più al successo economico, personale, sicuramente rientravano nella categoria che ho appena citato ma magari personaggi come Bellamy sicuramente no o England probabilmente no perché se avevi come idolo Henry Avery, nemico dell'umanità ricordiamo, i savvy Jolly Roger per non avere nessun altro tipo di bandiera sicuramente non è dalla vita del corsaro quella che ti interessava. Però dato che noi siamo romantici, a noi piace credere che loro inseguissero anche un ideale romantico comunque di libertà che magari essere corsaro non ti dava. Siamo un po' romantici noi in realtà. Magari loro appunto dicevano, come diceva ora Flavio, penso a riempirmi lo stomaco e avere la mia entrata mensile che per loro era in base agli arrembaggi fatti. Però a noi piace anche pensare... Noi io e Flavio pian piano stiamo abbracciando, penso Flavio Concordi, la teoria che la golden age della pirateria oltre a essere un'epoca di, mi riferisco appunto a quella caraibica di Nassau eccetera, oltre a essere un'epoca di grande folclore e avventura sia interessante dal punto di vista della presa di coscienza, di libertà, di indipendentismo, di possibilità di affrancarsi dall'aristocrazia o comunque dal sistema sociale, politico, economico dell'epoca. E' una sorta di era che fa da ponte fra due altre rivoluzioni importanti che sono state quella inglese e cronwelliana e poi quella francese che sarà proprio l'esplosione totale di tutte queste spinte. E il nostro sogno è avere poi il professor Barbero che diventi terzo podcaster, cioè non ospite, proprio che siamo io, Flavio e Barbero che parliamo. Così anche io posso fare le interruzioni molestiche in quel caso. Di fronte a Barbero sì, anche tu. E quindi è vero, stiamo iniziando a vederla un po' così, nel senso, ma anche più, forse anche più interessante mi verrebbe da dire delle altre rivoluzioni che abbiamo citato, delle prese di coscienze borghesi in generale, perché qua si va anche verso spinte di anarchia o di miniarchia o comunque di, ok, c'è uno Stato ma è più che altro un modo per sopravvivere, fare i nostri scambi, però non... è interessante, l'aspetto politico-economico interessante è sicuramente come abbiamo sempre promesso, via via lo andremo ad affrontare sempre più. Sì, ma anche un esempio di democrazia, un periodo in cui la democrazia non manco esisteva. Esatto, esatto. Ecco, però tornando a England, che a noi poi ci viene, sentiamo già l'eco del mare che ci chiama e ci dice, andate bene, invece no, torniamo a Edward England. Allora, io ti chiedo due cose. Dalle fonti che ho visto, Larson nel suo romanzo dice una cosa e ti chiederò una conferma, e invece Internet dice un'altra cosa e ti chiederò conferma. Allora, Larson dice che England nasce da una famiglia irlandese di, insomma, persone che hanno da sempre combattuto per l'indipendenza irlandese. Questa mi sa tanto di finzione letteraria per dargli una biografia un po' un pelo avventuroso politica. Non so se invece nelle tue fonti storiche è confermata questa cosa. No, in realtà, prima che England diventasse in pirata non si sa praticamente nulla di lui. Esatto. Nel senso, si sa che lui, sì, era irlandese e il motivo per cui scelse come nome England, boh, strano. Magari, visto che diventava un pirata, voleva gettare l'infamia sull'Inghilterra, non lo so. Non lo so, ma sono tutte supposizioni, insomma. Sicuramente era irlandese, sicuramente ha combattuto appunto nella guerra di successione spagnola e poi diventava in pirata. Però non si sa molto. Ecco, l'altra fonte di cui ti volevo chiedere conferma è che, già lo so che tanto andrà male questa, Edward England aveva, se non creato comunque, ostentava il Jolly Roger nero con le tibie incrociate e il teschio. Vuoi rovinarci anche questo, Jolly Roger? Non esisteva nemmeno questo. Il più classico, il più classico dei classici dei Jolly Roger. Non esisteva. E Edward England, sì, batteva questo Jolly Roger. Ah, ma ormai me lo dici per farmi contento secondo me. No, 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 te lo dico perché sono contento pure io. Lui batteva effettivamente questo Jolly Roger come Samuel Bellamy. Esatto, esatto. Il Jolly Roger più classico che esista, però sì, 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 è vero, lui batteva questa bandiera e la batteva anche nell'oceano indiano dove, a bordo della sua fancy, accanto al suo amico più o meno, John Taylor, iniziò a fare il pirata un'altra volta. Che succede? Che quasi subito lui si imbatte in Labuse, Olivier Lavasseur, che era pare naufragato sulle comore e lui lo salva appunto dal naufragio e gli dà una nave. E quindi questa piccola flotta diventa un po' meno piccola perché ha tre capitani, tutti e tre molto agguerriti e d'esperienza, insomma. Che succede? Che a questo punto loro si imbattono nella Cassandra, che era una nave mercantile molto ricca che trasportava tra le varie ricchezze un buon quantitativo di stoffe pregiate, che erano una merce molto molto interessante per i pirati, insomma. Che succede? Che scoppia una battaglia piuttosto furiosa, visto che la Cassandra era un grosso cargo ed era ben difeso, mentre England, Taylor e Labuse comunque erano a bordo di navi pirata, quindi sappiamo anche dalle scorse puntate che generalmente non erano navi particolarmente poderose, piuttosto erano navi rapide ed efficaci in manovre lampo, insomma. La battaglia è lunga, è violenta, moltissimi cadono, però alla fine ha successo perché England conquista la Cassandra e fa prigioniero il capitano McCree, che in alcune fonti è chiamato McCree, comunque, o Macra addirittura, comunque questo capitano viene fatto prigioniero e England lo tiene un po' da parte perché sa che se finisce nelle mani dei suoi uomini fa la fine gomma di Skinner, di quello di prima. lui non è propenso a torturare o a dare la pena di morte a sto McCree e McCree tra l'altro era un bel furbacchione perché appena notata sta vena un po' umanitaria di England inizia subito a convincerlo a lasciarlo libero, insomma, e anche a ridargli un po' di bottino. effettivamente England lo fa, andando anche contro i suoi uomini che invece volevano impiccarlo sostanzialmente. Che succede? Che ad aiutare England in questa decisione interviene un tizio, che era un suo fedelissimo, che il rompe nella sala dove si stava decidendo la sorte di McCree, sventolando due pistole e dicendo se qualcuno tocca McCree gli sparo in testa perché lui è un brav'uomo. La particolarità di questo marinaio fedelissimo di England è che avesse due basettoni imponenti e che fosse senza una gamba o con una gamba di legna. Vedi? E qui torniamo al tuo amico Long John Silver perché effettivamente la descrizione e il temperamento corrispondono oltre al fatto di essere un fedelissimo punto di England. Dunque è sorprendente perché il lavoro che ha fatto Larsson, che poi il romanzo di Larsson diciamo può sicuramente piacere o non piacere, non è una sfida facile quella che ha affrontato Larsson perché tu prendi un personaggio iconico della letteratura e ne crei tu una biografia. È ovvio che ti scontri con l'idea che il lettore si era fatta del proprio silver perché ognuno affondando il naso nelle pagine dell'Isola del Tesoro si è immaginato un silver con delle... o magari so solo io che me faccio mille pippe mentali, però ognuno si immagina varie cose e poi Larsson deve appunto provare a imporre fra virgolette il proprio modello di personaggio sostituendo quello che i lettori appunto avevano già potuto immaginare della biografia silveriana. Però un grande oggettivamente grande lavoro che Larsson fa è quello di prendere a piene mani dalla storia oltre che dalla finzione di Stevenson. E vediamo che questo rapporto che silver ha con England è veramente molto interessante. A parte che vengono citati sia alla vicenda di Skinner e del Cadogan sia la vicenda di Macra e della Cassandra e in tutti questi casi vediamo emergere la reale personalità di England che quindi viene rappresentato esattamente così come tu storicamente ce lo stai descrivendo. Ad esempio c'è un passaggio dove tu ora hai citato la morte poco felice di Skinner e c'è un passaggio dove England dice Silver non voglio sapere niente della mia parte di Bottino del Cadogan sono soldi macchiati di sangue. Quando parla poi di Macra, Silver fa questo ragionamento, dice Macra sia io che gli uomini lo volevamo tutti morto però dovevamo obbedire alle indicazioni di England. E ci sono vari momenti dove vediamo un England tormentato da questa vita che comunque lo portava a voler continuare a fare quello che stava facendo ma allo stesso tempo a scontrarsi con un mondo di violenti e di spietati. E Silver e England arrivano ad esempio anche a scontrarsi per la morte di un tal Rickett che a causa di un'onta che aveva lanciato era stato bellamente sistemato da Silver e England gli dice ma perché hai ucciso questa persona? E Silver dice no c'era un motivo però per England questo discorso c'era un motivo come spiegazione morale dell'omicidio non è una cosa convincente. Quello che secondo me è interessante è questo. Silver ha questo rapporto con England e questo rapporto con Devil che abbiamo detto che è il suo arci nemico e quindi con una figura mite magnanima e con una figura invece spietata, sordida eccetera. E Silver lo abbiamo sempre descritto noi come una personalità doppia, una figura che è sempre intrisa sia di bene che di male. E quindi qui vediamo due personificazioni e due possibili anche mentori se vogliamo che gli hanno trasmesso entrambe queste energie. Cioè lo Yin e Yang di Silver si personifica in England e in Devil. Però siccome ho detto troppe robe serie vi dico che Silver ogni volta che vedeva Devil... No ma non torno perché stavo per fare la battuta che diceva Deval però non torno cioè o era Duval e allora facevo come proietti diceva Duval ma Deval non mi viene la battuta. Però avete capito che se si fosse chiamato Duval, Larsson perché non hai fatto Duval? Almeno faceva la battuta che Silver diceva Duval quando ogni volta che lo vedeva che era sempre lì. Però caro Flavio Flavio parlava anche lui come Mario Brega. Tutti perché noi ci siamo chiesti come era la lingua il Pirate English in italiano sarebbe il romanesco dei film della commedia perché non ci ho pensato l'altra volta. Però caro Flavio a parte chiederti appunto di proseguire con la parte invece storica ti dico un'altra cosa mediatica cioè secondo alcuni figure di One Piece come Shanky il Rosso si ispirano a Edward England. Ho provato a vedere perché dice perché sono magnanimi e non uccidono i loro nemici però ho detto va bene mi sembra un po forzato cioè magari è l'autore che ha voluto rappresentare un pirata buono ma non è per forza England boh mi sembra un po forzato ma qualche fan di One Piece ce lo saprà dire sicuramente. Sì o ci bastonerà. Comunque sì hai citato giustamente la versione letteraria del famoso episodio del del fedelissimo di England che si schiera per salvare il capitano McCree e effettivamente è quello che succede perché McCree o Macra come viene traslitterato in alcune fonti più più vecchie lascia la Cassandra a England che ne fa la sua nuova ammiraglia e la lascia a bordo della Fancy che era appunto la vecchia nave di England che era mal ridotta dopo dopo la battaglia appena combattuta e se ne torna in padre anche con un po di bottino che England gli ha ridato indietro quindi può anche fin troppo magnanimo insomma per un pirata e di fatti Taylor e probabilmente in comune accordo con con l'abuser che in fondo loro due si conoscevano già da molto tempo perché avevano lavorato insieme prima e decidono di mettere England in minoranza e quindi la Churma lo depone e lo depone e quindi abbiamo un esempio di un pirata che praticamente perde tutto e viene deposto perché era stato troppo buono con i suoi nemici e England viene sostituito da un dal suo primo ufficiale che era Jasper Segar che molto spesso viene confuso con England stesso perché hanno lo stesso cognome originale e non proprio uguale ma molto simile uno è Segar l'altro è Segar però insomma la differenza è proprio l'Aville e quindi England viene abbandonato su un'isola deserta quella di Mowla Poyles viene abbandonato su un'isola deserta con solamente tre marinai i suoi più fedeli tra cui appunto questo questa versione storica tra virgolette di Longer Silver il racconto poi della storia di England diventa un po' un po' strano perché non si sa bene quale sia stato il suo destino dopo questo abbandono su sull'isola di Mauritius è possibile che abbia raggiunto il Madagascar su una zattera ricavata da mezzi di fortuna perché England viene citato o avvistato da alcuni pirati alcuni marinai passati per il Madagascar poco dopo e pare che lì abbia abbia incontrato forse Christopher Condent che era un altro famoso pirata che si era stabilito lì sappiamo che il Madagascar era un po' una patria dei pirati dopo la caduta di Nassau e pare che abbia vissuto i suoi ultimi anni un po' della carità dei suoi vecchi amici pirati che appunto vivevano in Madagascar mentre altre storie dicono che abbia invece trovato il modo di tornare in Europa e stabilirsi in Inghilterra dove pare che morì di stenti come il suo amato Henry Avery forse in realtà è tutto il grande mondo del forse di quello che è successo quello che in realtà sappiamo è che è stato abbandonato sull'isola di Maurizio questo anno era un'isola deserta con i suoi fedelissimi che probabilmente riuscì a costruirsi una zattere e andarsene in Madagascar però dopo di questo non sappiamo proprio veramente nulla tutto il resto sono supposizioni quello che sappiamo... di sicuro non è tornato dalla moglie quindi questo facciamoci due... in realtà non è sicuro neanche questo è vero l'unica cosa che sappiamo è che le avventure di Edward England furono molto particolari nel panorama piratesco dato il suo carattere, i suoi ideali e che sicuramente rappresenta uno di quei personaggi che a noi piacciono tanto per i nostri ideali romantico di pirateria perché effettivamente lo incarnava un po' come il nostro sempre citato Bellami sì perché diciamo per lui l'idea era appunto quella tipica del pirata cioè è legittimo da un lato che io possa arricchirmi togliendo in fondo un po' alla Robin Hood come lo stesso Bellami togliendo a chi ha non è legittimo vivere la cosa come una questione bellica cioè non è che abbiamo qualche motivo di generare... di essere crudeli insomma è esatto, sembra essere questa la logica, è comunque un criminale però con una sua etichetta tra l'altro altra cosa bella da notare in queste storie che presentano sempre questi elementi simili nonostante persone così diverse è la poca accuratezza delle fonti che è spiegabile sicuramente in tanti modi cioè da un lato noi stiamo andando a parlare di personaggi fondamentali nel mondo dell'epoca perché loro con le loro navi andavano a intrecciarsi con le rotte più importanti politiche ed economiche dell'epoca ed erano sia nei Caraibi che in Madagascar cioè erano presenti ovunque e quindi si erano veramente imposti nella storia dell'epoca e stiamo inoltre parlando di in alcuni casi veri e propri sovrani perché nella loro organizzazione sociale o per fama o per ricchezza o per potenza militare qualcuno di loro era un vero e proprio signore della guerra se non monarca di territori e quindi uno dice ma perché allora questa poca accuratezza perché dei monarchi ufficiali abbiamo uno staff diciamo di persone che si sono occupate della loro biografia, della loro ricerca storica eccetera degli uomini di mare ci si affida a un mondo di folklore, di leggende, di superstizioni che loro stesso creavano fra i loro contemporanei tale che, questa è un'idea così che mi sto facendo io tale che secondo me la storiografia piratesca fatta dai pirati stessi era lacunosa se poi trovane uno che scrive eccetera e quindi già secondo me fra i contemporanei c'erano vicende diversissime della stessa cosa che era accaduta nella loro contemporaneità figurati poi tramandata ai posteri e quindi è difficile e da un lato è un grande dispiacere perché perdiamo ogni tanto dei tasselli di persone che hanno veramente interpretato ruoli da protagonista nella storia dell'epoca almeno nella storia di quella parte sicuramente di mondo però era una parte considerevole sì, sì, sì poi è anche vero che molte di queste storie sono in realtà ricostruzioni fatte da vari tipi di documenti che abbiamo ottenuto ad esempio buona parte della fase finale della storia di England la conosciamo dal rapporto che fece McCree quando tornò in patria eh, vedi esatto, bravo quindi anche questa è una visione parziale della storia che comunque lui era un nemico che era stato salvato praticamente da England però era comunque un nemico per quanto riguarda il resto sì, conosciamo molte di queste storie grazie a la storia generale dei pirati questo tomo fondamentale tra l'altro il volume 3 che ho curato parla di Bonnet e di England quindi c'è tutta la versione tutta la, diciamo, la storia di England nei dettagli e la traduzione della storia originale scritta da Capitan Charles Johnson o Daniel Defoe comunque egli sia quindi anche quella è una fonte che come spesso dico è molto più letteraria che non storica per quanto raccolga vari reperti storici quindi sì, quello che sappiamo lo sappiamo sempre un po' per caso un po' per fortuna è sicuramente tutto da prendere con le molle insomma perché comunque non ci dimentichiamo che come hai detto tu giustamente gli storici stavano dall'altra parte del conflitto e che la propaganda anti pirateria era una cosa molto molto importante per l'epoca perché comunque la pirateria era un grosso come dire un grosso ostacolo ai commerci e mandava in bancarotta ben più di un mercante quindi la propaganda anti pirateria era una cosa richiesta è una cosa fondamentale e soprattutto nessuno voleva pompare troppo il mito che la gente comune si faceva dei pirati come appunto dei liberatori o dei robin hood dei mari se no tutti prendevano la via del mare comunque li supportavano un po' troppo sì, alcuni di loro poi effettivamente lo erano magari ma sicuramente non la maggior parte di loro e oggi abbiamo visto un altro pezzo di puzzle che stiamo componendo via via in questo grande disegno finale di spiegarvi spiegarvi insomma di intrattenerci con voi nel descrivere la pirateria e tutto il suo fantastico mondo parlare di biografie è sempre una cosa interessante come vedete cerchiamo sempre di intervallare un tema a una biografia quando possiamo e riusciamo però vi dobbiamo lasciare oggi con una fondamentale domanda conclusiva e vi preghiamo nei commenti di rispondere ovviamente domanda molto seria e storicamente fondata ma secondo voi allora i pirati ascoltavano Britney Spears oppure no? perché c'è chi dice anche Jennifer Lopez qualche fonte ho letto e quindi rispondete nei commenti con secondo voi l'artista pop preferito di Barba Nera e simili Justin Bieber secondo me no Justin Bieber no ciao 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 Grazie a tutti.